Qual è il tuo goal con la musica? Dove vuoi arrivare con la musica? Per quanto tempo pensi di continuare a studiare? Ma tente, perché fai musica? Perché suoni musica, qual è il tuo goal? Ma il goal è dove vuoi arrivare? Dove è il tuo goal? Questa è una domanda più interessante. Cioè, dove vuoi arrivare? Tu gli dici qual è il tuo goal? Voglio vincere il Busoni. Ok, ha un specifico goal. Vuoi vincere una competizione piano che si chiama il Busoni. È un'internazionale in Italia. E questo è il suo goal di vincere questa competizione. Questa è la risposta alla tua domanda. Ti auguro buona fortuna. Usi un organista come chi si è stato inspirato da qualcuno e chi ti ha inspirato a nonni? His inspiration comes from father and mother Both mother and father Play piano So he grew up in the piano In a house where piano was being created all the time Stand up How long did it take him To practice the song that he just Quanto tempo si ha messo a imparare questo brano? Ah, due mesi Quanto? Due mesi More than 60 days Practicing every day Like 60 days Okay Before we continue Do you want to hear him to play something else? One more Short escalate So, let's go to the bathroom Grazie a tutti.